Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi a richiesta grandissima di nessuno, ci tengo a pensare nessuno, facciamo un video incredibile, allora innanzitutto diciamo subito che siamo in compagnia di Angelo, che per chi non lo sapesse, è il figlio di mio zio, nonché mio cugino. C'è anche Yumi con noi, che da poco è entrata a far parte del team delle gambe amputate, ma insieme a noi, visto che siamo in live, ragazzi come sempre seguitemi sul sito viola se volete partecipare ai video, ci sono due fan con noi, che sono Anna Rita e LauraTop201, che ormai probabilmente è più famosa di me perché ha fatto parte di 60.000 video. Attenzione, loro ci sentono dalla live, non sono in chiamata con noi, ma oggi siamo qui, come avete visto dal titolo, se l'avete cliccato ci sarà un motivo, giocheremo a nascondino dentro Brookhaven. Angelo, cosa ne pensi? Hanno gioinato dei fan tramite il letto, questo penso, e guarda hanno messo il letto quasi. Penso che dovremmo iniziare a bannare tutti comunque, cioè ci stanno rapinando, ci stanno distruggendo la casa, o giochiamo a guardie e ladri, o giochiamo a nascondino, ragazzi. Comunque, oggi giochiamo a nascondino, come si gioca a nascondino? Uno conta e gli altri si nascondono. Allora, io vorrei fare a tre livelli, nel primo livello ci nascondiamo dentro questa casa gigante, nel secondo livello ci nascondiamo all'interno del quartiere, nel terzo livello ci nascondiamo in tutta Brookhaveni. Ci siete? Ovviamente, ovviamente giochiamo noi cinque, perché altrimenti sarebbe un bordello. Datemi un numero da uno a, quanti siamo, cinque, e io farò un generatore casuale. Vediamo quale esce, il numero che esce conta. Alexa ce lo dirà. Io sono due. Io sono uno. Io sono tre. Ok, Anna Rita e Laura, ma come cinque e tre? Vabbè, Anna Rita è quattro, Laura è cinque. Alexa, dammi un numero, cortesemente, da uno a cinque, grazie. Uh, devo contare io? Ok, Godus, Godus. Allora, quindi, primo step, nascondersi all'interno della casa. Attenzione, perché io prima, Anna Rita, l'ho vista, e anche il mio cugino. Ragazzi, questo video non si chiama nascondino da piccoli. No, no, non si può accettare così. Dimensioni normali. Se poi questo video dovesse, per caso, arrivare a tre, quattromila mi piace, allora potremmo fare nascondino da piccoli. Ora vado a contare, eh. Mi metto in bagno a contare, anzi no, qua nel camino. Conto fino a dieci, eh. Uno. Ma come, finerebbe pochissimo. Vabbè, allora fino a venti, ok? No, conta fino a quattrocentocinquanta. Sì, dai, così, film. Uno, due. Venti. Tocca a me. Primo classificato. No, non è vero. Allora, ovviamente, da questo momento, il mio editor sarà molto bravo. Avrò adesso, ragazzi, un timer di due minuti, che sto mettendo nel telefono, guardate. Da questo momento, due minuti per trovarli. Quindi, vabbè, voi vedrete un timer bellissimo. Allora, conoscendoli, probabilmente, visto che sono tutti una manica di scarsi, sicuramente saranno tutti al piano di sopra. Anche perché, prima, ho sentito i passi. Quindi, qua sotto non si è nascosto nessuno. Perché, chiaramente, ci hanno paura. La domanda, chi viene trovato per primo conta, tipo? Eh, sì. Sì, il prossimo che viene trovato per primo conta. Allora, vedi. Ma che nascondiglio è, Laura? Cioè, ma ti puoi nascondere, tipo, in castigo all'asilo del muro, attaccata? Vabbè, Laura trovata subito, raga. Veramente, un'abilità nel nascondino che è da invidiare. Da invidiare. Vabbè. Laura ha presa. Mi manca un minuto e venti, però. Se non mi spiego, qua è la fine. Bella, Yumi. Sì, sì, sì. Bello. Eh, mio cugino, io lo so che lui è... È bravo. Un grande, un grande nasconditore, mio cugino, eh, ah. Vediamo un attimo. E qua c'è, ovviamente, Annarita, anche lei. Ma che cos'è una moda, questa specie di nascondiglio sul muro? Trovati tutti tranne Angelo. Chissà dove sarà il mio cugino. Allora, io ti giuro, Angelo, ti giuro sulla mia vita. Se hai cittato e sei, tipo, piccolo o qualcosa del genere, mi arrabbio come una bestia, sappilo, eh. Non ho cittato e non sono né piccolo né travestito. Con il mio avatar di Roblox a grandezza naturale scala 1-1. Scala 1-1, quindi, no? Sì, sì. Ok, mi stai dicendo che hai palesemente sfruttato i nascondigli di questa casa. Ok, ti ho trovato. Bello, com'è? Com'è chillarsela qua? Eh, il chilling garagiale. Ok, ragazzi, trovati tutti. Vabbè, questo era il primo step, si può dire. Era molto semplice. Adesso, però, dovremmo fare una cosa un po' più difficile. Ovviamente Laura avrà 5 minuti per trovarci, non 2, perché se no non ce la facciamo. E noi possiamo nasconderci non all'interno delle case, ma in tutta questa strada. Quindi non possiamo scendere giù, non possiamo salire in tutta questa strada, diciamo. 5 minuti da ora per nasconderci. Ragazzi, io vado a nascondimi perché non voglio assolutamente farmi trovare da nessuno. Anch'io. Anche perché, anche perché c'è una cosa un po' brutta. E cioè, e cioè che è tutto innevato. Ho trovato un nascondiglio, raga, che è impossibile. Anch'io, anch'io, anch'io. Non mi troverà mai nessuno qui. Qua lo dico e qua lo affermo e lo confermo proprio con la firma. Se Laura, che ha detto poco fa in chat, che voi non leggete perché è dietro di me, dice che già sta cercando. Se dovesse trovarmi per primo, palesemente ha guardato la live. Palesemente ha proprio guardato la live, raga, io ve lo dico, eh. Allora, vediamo. Qui abbiamo un po' di gente, però. Mary, vattene da qua! Mary, vattene, vattene, vattene! Oh mio Dio, si sta avvicinando LauraTop201. Seguita la JennyPlates è un'altra persona che non so chi è. Laura, ti ricordo che hai cinque minuti, eh. Raga, raga. Sì? Oh mio Dio, mi è passata letteralmente davanti. Mi è letteralmente passata davanti. Raga, ce l'ho vicinissima, ce l'ho vicinissima. Ce l'ho iper mega vicina. Ma com'è possibile che non ho trovato nessuno? Dove siete nascosti voi? Ma dove è andata dentro la casa? Non l'ha capito che non può salire. Scusatevi, voi dove siete nascosti? Tanto mica vi devo trovare io, ditemelo. Eh, allora, io sono nascosto non dentro la casa ma sotto l'entrata. Io dentro un albero sono, sono dentro un albero. Ok, si sta allontanando, si sta allontanando. No, non sta ascoltando la live, sta giocando bene, non sta accettando, se no non avrebbe senso. No, raga, almeno uno lo deve trovare, però. Infatti spero che trova per prima di alcun altro. Raga, raga. Madonna. Voglio piangere. Oddio. No, no. Di cercare tu in tutta Brookhaven. Allora io posso uscire se ti ha trovato. No, adesso mi venga a cercare. Vai, cercaci. Adesso mi venga a cercare. Ma lo sa dove siamo? Non ci credo. Non ci credo. Ma non lo sa, non sta guardando la live. Qua dentro sei par... Qua c'è Angelo. Non ci credo, raga, che tocca di nuovo a me, però. Guarda dritto. T'ho visto. Ma scusami, ma scusami. Tecnicamente se una persona mi trova, io non dovrei aiutarla a cercare. Dove è Anna Rita? Ma vabbè. Che si è trovata il nascondiglio più incredibile della storia proprio del calcio. Calcio. Anna Rita è fortissima. E Yuvi dov'è? Oddio. Mi ha trovato, dai, mi ha trovato. Sì, ma raga, ora tocca a me, però. Dai, ma io non c'ho a sbattere di cercare in tutta Brookhaven. Ragazzi, ultimo round finale incredibile, assurdo, nascondino dentro tutta Brookhaven. Sempre cinque minuti di timer. Mi metterò qua dentro la stazione di polizia a contare. Ragazzi, ovviamente, ovviamente, io qua ve lo dico, io qua ve lo dico e non sto scherzando. Non sto scherzando. Ci metto proprio i miei soldi, la mia moneta, per farvi vedere quanto tengo ai miei fan. L'ultimo che viene trovato, quindi l'ultimo che vince, vince mille Robux. Ovviamente, se tra queste persone ci sono Yumi e Angelo, non li vincono perché loro sono già ricchi, visto che fanno YouTube. E niente. Andiamo a contare. Vado, eh. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Allora, da questo momento io ho la bellezza di... Vi faccio vedere, ragazzi, cinque minuti da adesso, cioè il timer. Quindi, editor, mi raccomando, metti il timer. È notte, è notte e dobbiamo trovare tutti i nostri amichetti. Sarà tosto, ovviamente, non penso che li troverò tutti perché, ragazzi, chiaramente in tutta Brookhaven probabilmente chissà dove se ne sono andati. Ma cerchiamoli perché, comunque, a me basterebbe trovarne almeno uno. Ovviamente, ragazzi, spero non abbiate utilizzato i nascondigli o robe del genere perché sareste veramente degli infami schifosi. Che lo siete, in realtà. Però, dico, spero che almeno abbiate avuto pietà di me perché se avete utilizzato i nascondigli, ragazzi, in cinque minuti io non posso trovare praticamente nessuno. Ma vabbè, vediamo. Allora, Angelo, dimmi un po'. Dammi un po' un indizio. Dai, dove sei? Dammi... Perché, ovviamente, dai, tutta Brookhaven un indizio. Almeno uno lo voglio, dai. Bello. Grazie, Yumi, tu dove sei? Cioè, dammi un indizio tu, dai. Allora, è un luogo non comune. Non comune, non comune. Quindi sicuramente non è un ospedale che è dove vorrei mandare il mio cugino adesso, visto che non mi risponde. Ma lasciamo stare. Ma si parla di un edificio? No. Mi puoi dire qualcosa in più, leggermente? Non mi troverai mai. Ma cosa vuol dire, Angelo? Ti ho chiesto un consiglio, la tua risposta non mi troverai mai. Grazie, sei veramente carino. Messaggio a tutti i fan che stanno guardando la live. Cercateli tutti, aiutatemi, per favore, vi prego. Angelo, dammi un indizio. Dove sei? Ok, dai, dimmi un qualcosa di vicino. No, 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 non ho cosa di dirti. Dai, non è possibile, raga. Almeno uno lo devo trovare, cioè. Almeno uno. Non è possibile che non ne trovo manco uno. Ah, oddio, è vero. Il fosso del cimitero devo controllare. Magari qualcuno è lì. È vero, è vero, è vero. Cerchi in posti troppo banali. Ho capito, bro. Dov'è che... Esatto. Dai, Angelo, dammi un indizio. Sto pensando a cosa dirti. Anche Laura e Anna dovrebbero darmelo per un indizio, secondo me. Ti posso dire una roba? Vai. Che ti sembrerà se non ti farà molto ridere. Mm. The Sims 2. Sei in un'isola? Mm. Vero, Angelo? Non lo so. Sei in un'isola tu, palesemente. Chi c'è qua all'agenzia? Qualcuno? Dai, raga, ma com'è possibile? Cioè, dove siete? Cioè, manca una persona. Ok. Non so, Ruben. Quindi potresti essere in un'isola. Ok. Eh, ho capito. Ma qua le delle tante, però. Angel. I don't know, man. Eh, 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 eh. Ho capito. Però, Orbal. Non sono vicino adesso, vero? Non mi vedi tu? No, ancora no. Damn, bro. Aspetta, vediamo 36. Nella 36 c'è qualcuno? No. Siamo nel chilling in un posto che non conosci sicuro. Nel chilling siete. Sanno nel chilling termale? Yumi, tu invece? Raga, ma neanche... Sempre lì sono. È un luogo non comune. Non è un edificio. Ma sono sempre lì. Paradise Island. Ma mio cugino dov'è? Scusa, mi confermi che sei dentro un'isola? Sì. Eccoti. C'è una scala qua. Sei nell'isola 36. Palese. Questo non te lo posso dire. Ma io sappi che comunque non ti vedo, eh. Non mi vedi? Eh, non sai cercare. Grazie. Vabbè, raga. Tutta a Brookhaven. C'è, boh. Troppo difficile. È super difficile. Sotto la mappa. Ah, è vero. No, ma Angelo non riesce ad andare lì. Angelo non riesce ad andare lì. Bro doesn't trust my... Veramente? Sei lì? Ma non so neanche di cosa stai parlando io. Inizio a cercarvi con lo squalo adesso. Ma sono fatti i vostri. Angelo, dove sei? Oddio, ti ho visto, eh. Mi hai visto? Quindi sei qua, palese, in quest'isola sei. Brutto bas... Balordo. Balordo che non sei altro. Dove sei? No, Angelo, non è possibile che mi hai visto. Cioè, io sono qua. Mi vedi da qua? Che sto facendo? Quando stai saltando? Senza... Coccodrillo, mi deve aiutare a cercarlo, però, eh? Angelo è sotto la mappa. Ma, raga, sto cercando, non c'è. Sì, raga, da mo' che sono passati 5 minuti. Eh, dai. Sì, vabbè, ma chi se ne frega. Devo trovare mio cugino. Sì, non nascondi io dentro l'isola, probabilmente. Id don't know. Mi sa che c'è tipo un qualcosa in cui si può passare. Non lo so, guarda, il mio senso dell'orientamento in questo momento mi sta tradendo. Vorrei potersi aiutare, ma non posso. Eh, immagino, guarda, basta. Ho trovato, maledetto, che non sei altro. Ho trovato, maledetto, sei un maledetto, Angelo. Sei un maledetto, sei un maledetto. Allora, Angelo, l'abbiamo trovato. Adesso, Yu mi hai detto che sei in un posto non comune. Mi devi dire di più, mi devi dire di più, un qualcosa di più. Allora, eh, si vedono a stento, cioè, non troppo a stento le case. Cioè, non c'è la possibilità di vederle. Quindi sei fuori la mappa, diciamo? No. No, nel senso, dico, cioè, sei fuori la città? No. Com'è possibile che a stento si vedono le case? Forse so dove sei, cara. Aspetta un attimo che devo, però, prendere il mezzo. Fammi, fammi pigliare o miezze. O miezze. Vuoi prendere l'elicottero? Ma sai? Sì. Perché hai detto, oh, eh. Sei al centro, vero? Vale, con l'elicottero. Allora, a stento si vedono le case. Questo mi fa pensare, cara Yumi, che tu sei palesemente nella montagna innevata là sopra. No, non so neanche che ci fosse. Ok. Però sei nel boschetto, palese. Forse lo sta dicendo per fattarti. Chi è quello con il go-kart? Angelo? Non ho un go-kart. A stento si vedono le case. È palesemente nel countryside lei in questo momento. No, no. Sì, no, no. Cioè, è certo che dici no, no. Sei passato sopra di me. Sono passato sopra di te? Ok. Tu mi puoi vedere adesso. Ti posso vedere? Sto continuando a passare vicino. Ok, 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 ok. Alberto, come fa a non vederlo? Io lo vedo dalla live. Ma mi vedi anche ora? No, adesso no. Ragazzi, ecco Yumi, era nell'aereo. Boh. Va bene, va bene, va bene, va bene. Era sopra il reattore dell'aereo. Va bene. Aspetta un attimo. Detto questo, allora, abbiamo preso Yumi e abbiamo preso Angelo. Mancano Anna Rita e Laura. Mi serve un indizio però. Laura, dove sei? Siamo in una struttura dove ci sono più negozi. Quindi qua, penso, no? O qua o nell'altra. Siamo lì. Ah, siete qui quindi. Ok. Aspetta. Ovviamente non vi potete muovere. Ma Shadow? No, vabbè, però Shadow non c'entra niente. Non è uno di loro. Sì, ma poi se sono insieme come... Oh, forse ho visto. Forse ho visto. Aspetta. Come si sale qua sopra? Qua, qua, qua. Aspetta, 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 aspetta. Avevo visto qualcuno qua. No, non ci credo. Vabbè, ma è finito il tempo. Niente. Abbiamo perso, però voglio sapere dove erano. Devo darmi le robux ad entrambe adesso. Ma voglio sapere dove sono, però. Sono finiti da sei ore e cinque minuti. Dove siete? Uscite. Fatevi vedere. Al centro commerciale. Cosa? Esiste il centro commerciale? Esiste un centro commerciale su Brookhaven? Ma dov'è il centro commerciale? Scusa. Vicino all'aeroporto. Ma Yumi, c'è un coccodrillo che ha il tuo nome. Scusami, il centro commerciale sarebbe quale? Questo? Ah, è vero. È vero. Scusa, siamo qui alla zona da tutt'altra parte. Non ci credo. C'erano qua? Eh, ma dove ora però? Valle a trovare. Sanno sopra, palese. Guarda a Narita. Guarda a Narita Nastri. E c'è anche Laura qua. Hanno vinto. Hanno vinto 2000 Robux, raga. Mille e una, mille e l'altra. Mille e una e mille e l'altra. Sì, ma io ti ho detto davvero però, eh. Perché stavi faticando. Sì, ma tanto tu i 1000 Robux non li avresti vinti comunque, eh. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Veramente incredibile ciò che è successo quest'oggi. Fatemi sapere se volete altri video nascondinosi. Chiamiamoli così. E andiamo. Angelo, salutami con una bella strigliata. Aaaaaaah! Aaaaaaah!